Nicola, di solito ci dici che chi parte da Tena è un passo, ma tu l'avete così fatta. Mi l'ho provato, ma ero più rabbia che altro, perché sono partiti a tutta e mi è saltata perché a Tena sono caduto. Dopo sei arrivato in fondo al gruppo, ma a Tena sono riuscito a recuperare le posizioni e mi sono visto che questa cosa sta bene. Ti pensava che se l'avreste fatta a Tena, non è che è mancato nella collaborazione degli altri? Ma c'era spontaneo che tirava tanto. Poi i Petri perdevano un po' il salita. E allora mi ricordo che poi abbiamo pagato lo sport, potete andare un pochino da lontano. Peccato, comunque la tua stagione è un bilancio? Eh, sono fortissimo, sono fortissimo. Qualche gara sono arrivato secondo, magari potevo vincerla, ma sono fortissimo lo stesso.